Salve a tutti ragazzi sono sempre Omenz e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale siamo ritornati qui con la carriera allenatore con la nostra inter ragazzi Terzo giorno consecutivo con la carriera allenatore perché? Perché anche nel video di ieri signori avete spaccato il dannato tasto del mi piace ragazzi avete raggiunto i 1500 mi piace in tipo mezz'ora mi avete dimostrato che posso richiedervi 500 mi piace in più signori se volete l'episodio della carriera allenatore con l'inter domani alle 13.30 allo stesso orario che è uscito oggi ieri e questi altri giorni praticamente penso se lo volete signori 2000 mi piace e domani avete subito un nuovo episodio dove probabilmente andremo a finire il calcio mercato quindi mi raccomando ragazzi ricordatevi 2000 mi piace sono davvero molto importanti vi ricordo anche di seguirmi su instagram signori perché andrò a salutare gli ultimi 2-3 follower in questo caso sono marco59699, yenior92 e mmm.m marco ciao ragazzi grazie per avermi seguito su instagram mi raccomando signori vi ricordo anche che sarò alla games week solamente sabato 30 settembre quindi solo questo sabato che sta avvenendo sarò alla games week allora ragazzi ho fatto un altro paio di cose che probabilmente sarebbero state noiose per voi ovvero ho aggiunto qualche giocatore nell'hub del mercato un ragazzo mi ha consigliato di terminare il prestito di gagliardini e di andarlo a ricomprare perché adesso costa meno ho fatto esattamente così me lo sono riportato a casa per 16 milioni e 700 ma cosa ho fatto anche ragazzi ho richiamato dal prestito adesso qui non lo trovo con dog via eccolo qui e l'ho inserito subito nella lista trasferimenti così che mi sono comprato ufficialmente i gagliardini perché sennò se ne sarebbe andato e io voglio cercare di creare questo realismo con i giocatori dell'inter non voglio che poi a gennaio o a fine stagione se ne vadano a caso sono giocatori dell'inter e voglio che restino tali mi serve un terzino sinistro proverò ad andare a prendere barreca se no mi avete consigliato anche tagliafico e se no a centro campo direi che siamo a posto un coc giovanissimo volevo prenderlo giusto per avere un giovane su cui lavorare poi sicuramente anche un esterno sinistro e un altro esterno destro non lo so ragazzi non lo so come vice card vi dico la verità gabriele piena monti secondo me possono andare bene e poi anche un altro difensore centrale adesso vediamo un po come siamo messi con i soldi quindi io direi di andare nel lab mercato ragazzi di finire con le chiacchiere vi ricordo il mi piace arriviamo a 2000 per l'episodio di domani però adesso si va a fare le trattative allora ragazzi il coc giovanissimo che volevo prendere era phil foden del manchester city iniziamo la trattativa proviamo a prendere foden ragazzi 17 anni quest'estate ha fatto vedere qualcosa di incredibile proviamo un milione e cento proviamo col suo valore non vorrei che si scaldasse guardiola per l'amore del cielo perfetto foden sarà un nuovo giocatore dell'inter lo vedremo in coppa italia in qualche parte di campionato lo vedremo perché vorrei diventasse magari il nostro centrocampista offensivo titolare è ovvio che deve mettere alle spalle sulle gambe un po di esperienza siamo risposti a chiudere la trattativa se accetta di pagare uno stipendio di 14.000 settimana vogliamo che venga inserita un bonus 85.000 il bonus di ingaggio oh perfetto se gli alzi lo stipendio il bonus di ingaggio puoi permetterti di abbassarlo ragazzi abbiamo preso un giocatore davvero davvero molto interessante perché 17 anni avere già 65 non è da tutti capisco che non può sembrare il top player di turno però ragazzi credetemi a 17 anni ad avere già 65 è veramente tanto pensate che pinamonti ha un anno in più e da 64 però io non mi fermerei qui spingerai molto per chiesa vi dico la verità proviamo per chiesa facciamo un'offerta per il cartellino io andrei sugli 11 milioni avanziamo l'offerta sicuramente mi chiederanno qualcosa di più 15 milioni 15 milioni io non li ho in realtà 11 milioni e 500 ci stiamo avvicinando ma l'offerta è ancora leggermente inferiore e non vogliono una clausa facciamo una nuova offerta io a questo punto ragazzi siamo fermi sul prezzo e non ce li ho ragazzi terminiamo la trattativa che balle che balle però ragazzi non posso sempre essere io quello che va incontro alle richieste non è possibile cioè non è possibile a questo punto potrei andare anche su ma pure se no non c'ho i soldi quindi come terzino sinistro ragazzi clausola recisore di 28 milioni barreca ma barreca è andato all'eister ma non ci posso credere ma non ci posso credere che barreca è andato all'eister e porca miseria ed è venduto ragazzi ci sono entrati 15 milioni 28 milioni dai con 28 milioni si può fare qualcosa di interessante ci hanno fregato barreca però ragazzi se non erro ci dovrebbe essere enrix che avevo messo qua nella lista preferiti che può fare sia l'esterno sia il terzino destro che l'esterno sinistro eccolo qua enrix niente l'ha preso la roma proviamo a contattare di nuovo gelson martins il fiondo subito 25 milioni ragazzi quasi quasi ma i 24 milioni su 40 milioni bo boom contro offerta rioffro tutto quello che ho sì così proprio avanza offerta perfetto ciao anche gelson martins non va bene ragazzi ci andiamo a giocare la prima partita di campionato antonio candreo ha venduto perfetto ci arrivano 19 milioni quindi adesso forse forse riusciamo abbiamo 47 milioni quindi forse qualcosa riusciamo a combinare proviamo a contattare di nuovo gimenes per la difesa ho paura di fare certi tipi di trattative perché si incavolino o ragazzi qua stiamo arrivando a una trattativa molto importante 22 milioni non è molto è siamo una contro offerta cerchiamo di proviamo a fare 21 milioni e basta ok fare fatto gimenes ragazzi gimenes ma perché l'inter nella realtà non l'ha preso l'ha trattato un sacco di tempo e siamo non dico che siamo a posto con la difesa adesso siamo a posto con la difesa ragazzi perché abbiamo miranda zigno screener e gimenes siamo in quattro andiamo a trattare per l'ingaggio cruciale proviamo a fare una contro offerta prima a fare importante accettiamo ragazzi cinque anni vanno bene però adesso possiamo provare a stare un po ai miei no io sinceramente ignorerei la causa dell'escessore no 3 milioni ma sta cosa è fuori di testa questa cosa è fuori di testa cioè rimuoviamo il bonus ma di questo stiamo parlando modifica stipendio alziamogli lo stipendio a 85 che non mi frega niente e il bonus d'ingaggio lo abbassiamo a 400 oh no perché 3 milioni e tutta quella pappardella lì mi sembrava esagerato ragazzi ce l'abbiamo fatta abbiamo preso il difensore centrale abbiamo preso colui che manca all'inter colui che manca veramente all'inter in questo istante nella realtà dove sta eccolo qua gimenes eccolo qua gimenes ma tra l'altro gimenes ok può fare solo il difensore centrale no so perché ma pensavo di potergli far fare anche il terzino sinistro io ragazzi vi dico la verità lì vanav zigno nella preparazione ha fatto il terzino sinistro io non vorrei rischiarla ma potrei farlo in realtà far giocare zigno terzino quando quando d'albero è stanco potrei provarlo direi che possiamo tranquillamente andarci a giocare la prima partita ragazzi di questo campionato contro la fiorentina siamo in casa a san siro cerchiamo di fare una buona prestazione la mia squadra è super in forma ragazzi la mia squadra è super veramente super in forma speriamo di fare una buona partita ragazzi partiamo con le cose serie perché prima era tutto pre campionato adesso abbiamo potenziato sicuramente la nostra squadra con degli ottimi giocatori quali gorezca sterling e gimenes quindi ragazzi sempre sul pezzo forza inter e ci vediamo in partita eccolo qua sterling gli sta benissimo la maglia dell'inter ragazzi ma perché non l'abbiamo preso anche in realtà mi piace troppo questo giocatore ragazzi perché se voi immaginate la roma di spalletti al posto di sala ci mettete sterling e secondo me sterling potrebbe tranquillamente essere tra virgolette l'erede di sala siamo partiti subito ragazzi subito fortissimi joe mario subito per sterling attenzione sterling sterling davanti al portiere sterling la para il portiere dovrebbe essere sportiello se non erro subito pericoloso sterling bene così aspettate scusate ragazzi tolgo la telecronaca perché non ce la posso fare joe mario che lancia leon gorezca attenzione perché la palla potrebbe essere lunga gorezca la stoppa veramente bene la mette in mezzo per giu mario che ci prova col destro palla se non sbaglio deviata sarà calcio d'angolo l'intera partita veramente ma veramente forte sterling fuori dove c'è borca valero che ci prova col destro fuori di un niente oddio forse un metro e no è sì forse un metro signori ci sta però siamo partiti veramente alla grande bravo d'albert che può spingere attenzione perché può spingere sulla sinistra d'albert corre d'albert mamma mia come va come va d'albert o mamma d'albert la mette in mezzo bassa dove c'è sterling signori 1 a 0 inter rem sterling prima partita con l'inter primo gol per lui subito si fa vedere sterling ma cosa ha fatto da albert signori l'ho fatto partire l'ho fatto partire l'ho fatto partire se facesse così anche nella realtà spettacolare il primo gol ma guardate che bella che bella visuale che era questa qui gran cosa di d'albert gran corsa gran cross forse sportiello vi dico la verità avrebbe fatto in tempo a uscire perché il cross di d'albert era leggermente lento diciamo sterling in spaccata se l'ha andato a prendere e l'inter passa in vantaggio icardi attenzione perché fa andare sterling sterling la finta di sterling sterling col sinistro pezzella ci mette una pezza volevo dirlo raga scusate era il mio sogno attenzione questa punizione della fiorentina eiseric la mette bassa col destro sanchez colpisce di testa anticipa sterling che non è sicuramente un gran saltatore per andanovic si fa trovare pronto partiamo con cansello si fa vedere mauricardi che però è isolato icardi può andare mauro al centro già il solo joo mario la protegge icardi la gioca dietro per sterling che arriva sempre velocissimo dietro per goresca attenzione a perisic che tira ivan perisic 2 a 0 super inter una super inter signori come giochiamo mi sembra veramente la partenza dell'inter reale questa spettacolari attenzione a saponara saponara scriniar un muro scriniar cansello sterling la gioca a joao mario sterling poi si fa rivedere in mezzo per ricardi attenzione mauro sportiano la para e poi signori ivan perisic 3 a 0 tutto veramente troppo facile e non mi so spiegare il perché signori ma qualcuno me l'ha chiesto anche nello scorso video ma come potete vedere ragazzi se io sono entrato in partita che stavo parlando con voi finisce qui il primo tempo ragazzi 3 a 0 per noi davvero davvero facile sta uscendo la fiorentina nell'ultimo negli ultimi minuti della partita diciamo così e io ne approfitto ne approfitto ragazzi faccio riposare joao mario che è già un po più stanco e faccio giocare foden ho detto ne approfitto proprio proprio per questo e voglio provare anche zigno come terzino sinistro attenzione a foden foden recupero un gran pallone foden col destro aveva fatto un pressing clamoroso foden attenzione a scriniar che ce l'ha lo prova sarà calcio d'angolo adesso la fiorentina un pochino ci sta schiacciando e non riusciamo più a far molto ragazzi attenzione a questo calcio d'angolo cimenes 4 a 0 primo gol anche per lui se devono passare questo gioco devono passare le reti i portieri e la difficoltà ragazzi ma che qui è un gran stacco di testa però sportiero sicuramente poteva fare meglio osteria la palla era centrale assolutamente poteva far di meglio attenzione qui a esseric c'è il gol della fiorentina al 74esimo esseric segna il 4 1 qui me lo sono perso io con la difesa sono uscito con gimenes non avrei dovuto farlo brutto intervento di zigno scriniar non poteva recuperare l'errore e qui mi sono praticamente tagliato le gambe da solo sterling per foden attenzione a foden che sei andato oh mamma raga abbiamo trovato uno forte foden bellissima per sterling di nuovo sterling davanti a sportiello miracolo di sportiello ma ragazzi mi ricorda tantissimo salà sterling occhio al buco per babacare esce samir il tiro di babacare fuori finisce qui signori la prima partita di campionato la vinciamo 4 a 1 contro la fiorentina davvero una bellissima vittoria convincente sono stato soddisfatto di tutti quanti veramente grande partita di sterling spettacolare siamo andati davvero davvero alla grande speriamo di continuare così ragazzi sperando di continuare così e non abbiamo ancora finito il calcio mercato perché poverino per esiz quando dovrà fare un po di riposo non ho nessuno da mettere a sinistra quindi qualcuno va messo perfetto ragazzi andiamo a provare ad acquistare chiesa questa volta penso che non fallirò ragazzi l'offerta per il cartellino e andiamo subito con 11 milioni vediamo quanto mi chiedono mi chiedono 16 milioni penso che potrete tranquillamente accettarne di meno la rivendita di del 10 per cento prima ad andare con 13 ragazzi arriva il 10 per cento in realtà è un po però avanziamo questa offerta siamo fermi sul prezzo del cartellino facciamo una contro offerta se bernardeschi ne vale 45 chiesa quanti ne vale dai ragazzi questa è veramente una cavolata questa è veramente una cavolata non volevo spendere proprio tutti questi soldi per quanto possa essere promettente ce l'abbiamo fatta signori ce l'abbiamo fatta e questo episodio si conclude davvero davvero alla grande con federico chiesa trattiamo per l'ingaggio qui proviamo fare turn over per quanto riguarda il ruolo squadra da non avere troppi giocatori che che mi stressano magnifico perfetto modifichiamo lo stipendio prima prendeva 29 adesso possiamo offrire di 50 ma bonus di ingaggio scende a 120 mila perfetto ragazzi perfetto signori federico chiesa è un nuovo calciatore dell'inter e abbiamo battuto la concorrenza davvero davvero alla grande però sono abbastanza convinto che chiesa possa fare anche l'esterno sinistro anche perché è un piede destro ragazzi quanto sta bene da questo lato chiesa quanto sta bene chiesa da questo lato spettacolare spettacolare veramente ragazzi adesso mi sento un po più poi tanto chiesa lo faremo crescere ragazzi senza fretta ragazzi questo episodio finisce qui lasciato un bel mi piace cerchiamo di arrivare a 2000 mi piace ragazzi per il prossimo episodio che arriverà domani se avete qualche consiglio da darmi per quanto riguarda il calcio mercato datemelo magari si possono fare comunque degli altri cambi anche se non volevo tecnicamente stravolgere la squadra per il momento ragazzi sono arrivati giocatori secondo me interessanti fate conto che ho dovuto spendere tanti milioni per gagliardini e canselo che erano in prestito e sarebbero andati via al prossimo anno abbiamo vinto anche la prima partita sono molto contento di questo mi raccomando ragazzi un bel mi piace un saluto da mezzo seguitemi su instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti Grazie a tutti.